Sì, c'è un software, capito? 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 Bravo, bravo, buonasera. Buon suor, buon suor. Reparto America, andiamo. Pronto Giampino, fai. Buon suor, buon suor. Da noi ho detto giusto, ecco, a casa tua che stai lì vicino, inizia e poi in quell'altro, no? Eh, sì, sì. Io andiamo a casa, eh, Gigio? Buon suor, buon suor. Buon suor. Buon suor. Buon suor. Buon suor. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.